Qui l'hai andata niente, perla, si muole in quelli lì, allora è che... Ma adesso stai a te, però non c'è il fondo. Io poi l'è là sotto, cosa c'è il... No, 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 io poi albazò, 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 albazò. Uh, cosa c'è il... Guarda ora cosa c'è il... Io non c'è il... Io non c'è il... Non c'è la macchina, non c'è la macchina, scappa via la macchina. Sì, ma ovviamente c'è la macchina, io non avevo dei vigili, le vigili che non erano tolglie in giudice, Ma si capiva che veniva giù il tiro? Sì, la mamma non ha capito. Allora, non c'è la macchina. Ma si capiva che veniva giù il tiro. Sì, ma per fortuna che non c'erano tante macchine in fila. Oh, io poi albazò, albazò, albazò. Albazò, albazò. Asi se ho già know. 'It Starshipari Dav bowen diretti Allora, tranquilla Allora, tranquilla Allora, tranquilla Allora, tranquilla c'è stata la colonna di macchine fino a un minuto fa ho già da quella prima ha fatto del casino adesso con questa cosa, quello qui mi è capitato, l'altro comunque è nato, io non l'ho fatto tu la vai indietro, no è l'altro è l'altro è l'altro, è l'altro, è l'altro è l'altro capace che è gatto, non è l'altro non è l'altro è l'altro è l'altro